il nostro troianiello parola a marco conte onoreremo la maglia c'è uno spettatore in diretta chi sarà mai palesa di commenta commenta chi sei spettatore in diretta lo riesco a vedere la vittoria ernesto tre spettatori adesso è attenzione seguitissimi mister mister domanda dai facciamo un po di intrattenimento di qualità la formazione titolare ce la puoi già svelare il quintetto che parte giocatori nella mia squadra non esistono i titolari sosteniamo a tirare questa è una perla san nino ne fa 20 su 36 fisico per mettermi sono pienamente d'accordo a metà anche se perdiamo l'importante e il picco l'ingerenza parola a nonno parola a nonno oppure oppure vai tutti mario marotta ci sta scrivendo dai ragazzi sono con voi mario marotta dai ragazzi sono con voi i chill marco d'andrea scrivo vogliamo vendito tutti pazzi per aurelio Ciao Marco, ciao Marco, questo è Zeus, questo è per la sera Tanto Nugno ha finito... A che ora c'è l'aereo che arriva vendito? Vendito è fuori rosa Anche Andrea Zungra ha preso parte della sessione Allora ragazzi a breve arriva Lucio Carmo Scrivono che schifonetti Il bello della diretta ragazzi Il bellissimo è Io ti metto il like pure vai Trovo crash Alla giro che schifone Un po' di pausa Un po' di pausa Stiamo perdendo spettatori Brutto forte questo Lucio vieni vieni mettiti in favore di camera Vieni vieni Roberto Petillo ha preso parte della sessione Roberto Roberto ci saluta Roberto Petillo Ciao ragazzi Ciao Roby Oh c'è anche Tommy che ci stanno seguendo No però di me Ma non sai andare Tommi è Tommy Ciao Tommy Ciao Tommy Tommi scrivici oh Allora è Lucio Carmo Lucio Carmo Lucio una parolaccia in portoghese Dai Ci sta ci sta Giugami da Blicca Capo quanti gol fai oggi Capo Bianco Capo Bianco il nostro troianiello Da dire Ma fai rigolo alla tribuna Come fai a giocare Come fai a giocare Come fai a giocare A piede a piede Roberto Petillo scrive Buttate a conte a mare Oh Sono pochi i metri per il mare Roby siamo a pochissimi metri Ti dico che la barca sta quasi per affondare Guardate i galeone Manca poco Galeone Il che è tutto dire Roby ci vanno solo tu No Si sono cagni ai miei Ci sono 4 minuti Vorrei un commento da Pasquale Lungo Lo vedo troppo alto Non sta bene con la mano Il prof Natale Natale Episcopo E' cancelato Prof Ma chi sono tu Ci vanno solo con Lucio D'altro Il mio caccio va qua No no Il culo in diretta Guardate là Marco Conte Con questa ci siamo andati Di tutti gli acquisti Fu così che non venne più nessuno Ma erano solo portoghesi come Lucio Senti ma mi dite il risultato esatto di oggi Un bezo Un bezo Ciao a tutti ragazzi Noi ci siamo a preparare Abbraccio Ciao dai raga Muami Un bezo Grazie per la visione!